Ok, freno, start, front volante, retromarcia, R? Si, diamo indietro e andiamo sesto. Ok, freno prima, sinistra, R? 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 la letta un po', poco, provo a schiacciare tutto, tutto mamma mia, vale il freno, aiuto mamma mia, mi sono riformicolato persino a piedi e non è niente ancora, non abbiamo fatto ancora niente io penso di sì che vi ha definito di fare qualcosa ah, pensavi che era il massimo questo? sì no, c'è niente ancora, zero poco mica, c'è freddissimo hai freddo? eh, resisti cioè, o caldo, ma c'è freddissimo, sono molto avanti ora, rotonda, andiamo a sinistra qua non la rotonda, ok esatto, entri qua e andiamo su quella svolta che c'è ancora? ancora? su di qua qua su? vai, c'è niente vai mamma che ferdissimo frena fai sulla corse di qua la centrale? sì, sì, frena, frena, frena ah, scusa frena pure, frena, frena, frena schiaccia tutto, vai tutto, tutto, tutto basta, mamma mia basta, mamma mia vai, 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 vai mamma mia frena un po' aiuto, sto pergando tutto charla, cappella, cappella, cappella frena, 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 frena fremati proprio, fremati proprio in strada ora, quando dico via schiaccio tutto da su, ok? vai finchia, ma sei scherzato che felice ascolta, come ti chiami? ti faccio scendere rotonda a sinistra aiuto, basta bello mamma mia o io ho dovuto abbassare la testa non è così? davvero? sì qui adesso, guardi c'è mai salito macchina del genere sono abituato con la mia Peugeot 208 ora ora, dopo la curva sulla destra c'è dei pattumi stai un po' a sinistra perché c'è un buco grosso lì ah ok leggermente a sinistra sottocchiamo il muso ok vai, adesso accelera pure no scherzi no no accidenti c'è anche il freno è sensibilissimo è bello forte è carboceramica rotonda a dritto e poi fai rumore aiuto si apre è una bella è una bella ora rotonda mettiamo tutta a sinistra vediamo di là vediamo di là di là si è potuta fare un po' all'inizio no? ho fai già tornare dall'inizio no si si fai così fai un letto un po' frena nuovo vai schiacciatutto che non conosco la strada vedo vedo i filo tiratpo guarda ci arrivi a del centro bello mio non è che ti c***o beh no, lui ha detto un 200 vado ad avmodare di il filo allora rotonda dritto ora dobbiamo arrivare al 200 se non si metteva la macchina ci arrivavano tranquilli la curva fa buona delle curve la curva fa paura solo se per caso tu vai piano e poi acceleri in curva questa gira però diciamo che se la curva è abbastanza aperta anche a 200 la prendi abbastanza sicuramente stai più tranquilli adesso ferma la macchina ma di nuovo? ma perchè non devi fare 10 volt? perchè lo 0 a 100 è più bello stavolta però provo a spingere di bot ok? aspetta un secondo bene adesso però tonda tra l'hitto Ok. Non sono ancora passate qui ci sono. Siamo arrivati. Io vorrei che non passassero più. No, io pensavo che ti dovesse di nuovo fare... Diciamo che me lo ricordi... Per quello è basta. No, perché a me è tocca per inchilarmi. Non riesco più a respirare. Addirittura. Sì, la compro. La compro. Allora, facciamo così. Andiamo qua dentro, a destra, poi la metti... Dov'è la BMW di là? Quindi vai di qua a destra... A fianco alla BMW. E la parcheggia di col muso rivolto in là. Scusa, devo far farlo. Ora, freno... E poi giù in la casa. Aspetta. Ok. Grazie mille. Aspetta. Aspetta.